Oltre mille visualizzazioni in poche ore e decine di condivisioni sui profili ufficiali di Telemax, sui social network Twitter e Facebook, telefonate a GoGo e redazione, commenti nei bar e nelle piazze persino il noto Gianluca Di Marzio, guru del calciomercato nazionale che ha ripreso la notizia commentandola su Twitter. L'effetto Cassano si è insomma sentito con fragore in un primo aprile giorno del pesce che ha colto nel segno. Il servizio del TG Max relativo al colpo grosso della Virtus in procinto di ingaggiare Antonio Cassano per puntare dritti alla Serie A era ovviamente uno scherzo ma in molti ci hanno abboccato. Hanno creduto alla trattativa ai 300 mila euro di ingaggio e alla sontuosa villa promessa all'attaccante a San Giovanni in Venere, al nostro contatto telefonico col fantasista, al ruolo del direttore marketing Michele Lascala, parente di un comandante di un peschereccio di Manfredonia che fornisce crudi a fantantonio da sempre ghiotto e questo lo si sa di crudità dell'Adriatico. Insomma è tanto per rimanere in tema marinaro un brodetto servito a dovere nei piatti dei nostri telespettatori che hanno degustato il classico pesce d'aprile. Antonio Cassano di ritorno dalle Maldive, almeno questo è vero, non vestirà la casacca rossonera né firmerà a pranzo sul trabocco il suo nuovo attaccante del Lanciano e questo può bastare.